Mi auguro che negli uffici pubblici e nelle istituzioni possono riflettersi con fiducia i volti degli italiani. Il volto spensierato dei bambini, quello curioso dei ragazzi, i volti preoccupati degli anziani soli in difficoltà, il volto di chi soffre, il volto di chi soffre dei malati e delle loro famiglie che portano sulle spalle carichi pesanti. Il volto dei giovani che cercano lavoro è quello di chi il lavoro l'ha perduto, il volto di chi ha dovuto chiudere l'impresa a causa della congiuntura economica è quello di chi continua a investire nonostante la crisi. Questi volti e queste storie raccontano di un popolo che vogliamo sempre più libero, sicuro e solidale, un popolo che si senta davvero comunità e che cammini con una speranza nuova verso un futuro di serenità e di pace. Viva la Repubblica, viva l'Italia!